Pardio, ho il piacere di salutare Gaia Romani, benvenuta prima di tutto. Grazie, grazie mille, buonasera. Assessore servizi civici del Comune di Milano, ma leggo tutte le deleghe per precisione. Decentramento, quartiere, partecipazione, servizi civici, appunto, generali. È corretto? Correttissimo. Ci attende una lunga chiacchierata, ma come sempre a quest'ora ascoltiamo Pinocchio, la rubrica di Fabio Massa. Inizierei chiedendole un commento sulla gogna social di cui ha parlato Fabio Massa questa sera. Io credo che i tanti punti che Fabio Massa ha toccato hanno un elemento in comune, che è la difficoltà oggi di capire che significato condiviso diamo a senso civico e anche in che direzione vogliamo remare tutti assieme affinché ce ne sia un po' di più. È verissimo che la giustizia la fa la giustizia e infatti il problema è che quando lui si appella al fatto che adesso c'è un governo di destra verranno, come dire, le carte ormai sono scoperte. Quindi la destra per tantissimo tempo ha fatto propaganda rispetto al fatto che immaginava uno stato semi-militarizzato in cui a ogni angolo di strada la risposta per avere sicurezza fosse la presenza dell'esercito o della polizia di stato, evidentemente questo non è pensabile. Ci sono probabilmente più angoli che persone in Italia e quindi è evidente che è una responsabilità che sta a tutti noi. Quindi sicuramente io penso a tante persone come agli insegnanti, agli operatori sociali, ma davvero a ciascuno di noi come elementi di prevenzione rispetto a tutto questo. L'agonia social purtroppo è un fenomeno che passa anche da qui. Oggi noi non insegniamo nelle scuole che quello che diciamo in rete fa male tanto quanto quello che diciamo nella realtà e questo ovviamente crea nelle persone un senso di impunità nel momento in cui hanno in mano uno smartphone. Io stessa per esempio sono stata oggetto di un'agonia mediatica, mi è capitato all'inizio del mandato e quello che ho fatto e che consiglio sempre di fare è comunque rivolgersi a un legale e agire. Posso chiederle, non per che motivo, però cos'era accaduto, quello era stato l'elemento scatenante? Io ho sempre declinato il mio incarico al femminile, quindi assessora. Mi ricordo, la targhetta fuori dall'ufficio. Esatto, esatto. E in quel caso anche io avevo ricevuto tantissimi insulti sui social per questa scelta e quello che ho fatto è stato rivolgermi a una legale con la quale poi abbiamo intrapreso una serie di percorsi di mediazione per risarcimento danno e che diciamo hanno fatto valere il mio diritto a ricevere critiche sì ma insulti no. E quindi è un consiglio che do sempre a amici, amiche, persone che in qualche modo o perché cittadini che rimangono coinvolti in un episodio che casualmente diventa virale o persone che invece sono abituate a essere esposte di come dire agire rispetto a questi fenomeni perché siamo un po' abituati che insomma se diventi virale o se hai un ruolo pubblico in qualche modo un po' va da sé e te la devi far andare bene. L'esposizione sì, la critica anche, l'insulto e l'agonia mediatica non è un qualcosa a cui penso dobbiamo abituarci. No, anche perché giustamente diceva le offese sui social, anche quelle più violente, valgono tanto quanto se le scagliassimo dal vivo nei confronti di una o più persone. Forse sono anche peggio nel momento in cui aprono in alcuni individui magari uno squarcio, un'area grigia che poi fa metabolizzare l'offesa che si è subita e la fa magari a torto anche ingigantire. Veniamo noi dalle bolle social alla bolla di Palazzo Marino perché c'è stato un cambio in giunta importante, c'è un nuovo assessore alla casa, in parte anche qualcuno nel PD ha espresso perplessità, ma tanto lo vedremo all'opera. Ad ogni modo come sono state ridisegnate le deleghe perché insomma aspettano sfide importanti per quel che riguarda i quartieri, il tema del decentramento e i municipi. Sì, intanto facciamo un augurio di buon lavoro e di nuovo i complimenti a Pierfrancesco Maran, uno stimatissimo collega che dopo 25 anni al servizio del Comune di Milano adesso inizia un nuovo incarico al servizio dell'Unione Europea ed è il motivo per cui questo cambio si è reso necessario. L'assessorato di Maran aveva due deleghe principalmente, la prima era quella alla casa che appunto andrà al nuovo assessore Bardelli e invece l'altra che riguardava il piano quartieri e l'arredo urbano che in qualche modo entrano a fare parte della mia cassetta degli attrezzi e non a caso dico cassetta degli attrezzi perché io già da tre anni ormai mi occupo di partecipazione, di politiche di decentramento che sono deleghe molto trasversali e in qualche modo anche un po' di software nel senso che vanno ad incidere sui processi, sia i processi di dialogo tra l'amministrazione e la cittadinanza e poi come in questo rapporto i municipi possono svolgere un ruolo di collante. Allora in tutto questo avere la delega al piano quartieri e la delega all'arredo urbano creerà, io spero, una cornice, aiuterà a creare una cornice un po' più di senso che sia anche facile da raccontare e meglio da condividere con la città e con i cittadini e quindi a dare un po' di hardware alle tante cose che già stiamo facendo e di cui già da tempo stiamo discutendo. Coinvolgendo anche i municipi che davvero non vedono sempre l'ora di essere ascoltati. Sì, in effetti i municipi vengono davvero in questo mandato io penso ascoltati tantissimo nel senso che anche a detta loro ci sono dei periodi in cui li sommergiamo di riunioni e di incontri è evidente che poi il tema per loro rimane quanto quell'ascolto riesce davvero a incidere all'interno di tutto quello che è l'iter e il processo amministrativo. Quindi si tratta più che altro di modificare le prassi. Io penso che qualsiasi grande azienda, pensiamo che il Comune di Milano se lo fosse sarebbe l'azienda più grande di tutta la Lombardia. Quindi evidentemente è tutta una questione anche di non soltanto volontà ma di capacità di coordinamento e gestione del traffico, diciamo così, delle esigenze desiderate di tutti. Allora, ascoltiamo un po' di musica e poi torniamo in diretta con l'assessora e ci sono i Coldplay. E visto che stiamo parlando di urbanistica, le leggo questa dichiarazione di oggi di Carlo Monguzzi, che è consigliere comunale dei Verdi, ricordo, a favore del condono resta solo la giunta di Milano. Fermate il condono edilizio, ora lo dice anche il vicepresidente merito della Corte Costituzionale, lo ha anche detto Mattarella, non si fa una sanatoria su inchieste in corso. Sindaco, rispetto agli impegni, correggiamo gli errori nel nuovo PGT e diamo inizio a una nuova politica urbanistica. Dunque, io su questa vicenda penso che noi come giunta comunale abbiamo sempre tutelato quello che gli uffici hanno fatto e come loro hanno agito. Questo perché naturalmente siamo convinti, intanto della bontà di chi opera oggi nell'amministrazione, anche perché chi tendenzialmente lo sceglie lo fa davvero per vocazione e perché ci crede, perché è molto molto complesso per usare un eufemismo. Al di là di questo, io penso veramente che la vicenda sia una vicenda che comprende non una questione di mala fede o di dolo o di quant'altro, ma una complicazione nell'interpretazione normativa. Che sia legittimo che qualcuno metta in dubbio, ma il lavoro che a quel punto si deve fare è spostare la palla alla politica, non sul piano giudiziario. Cioè, se io penso che la norma sia più corretta che venga interpretata così, io tecnico del Comune di Milano, mentre invece un tecnico di un ministero mi dice no, invece io intendevo scriverla in questo modo, allora è giusto che intervenga la politica con una norma di interpretazione autentica, che è l'unica tipologia di norma che ha un effetto retroattivo e che dica ok, l'abbiamo interpretata fino a questo momento così, adesso discutiamo noi parte politica come è più giusto che noi vogliamo che si vada avanti. E quindi il PGT è esattamente lo strumento che il Comune di Milano ha per fare questo. Quindi credo che la risposta del sindaco sia perfettamente lineare. Poi ovviamente il PGT comprende una parte di ascolto e di interlocuzione con la città, per esempio i municipi danno il loro parere, quindi ovviamente non è un percorso che facciamo da soli, è un percorso e una sfida che riguarderà tutta Milano. Però io credo che su questa vicenda si sia fatta tanta, come dire, speculazione e strumentalizzazione, sì. Poi intanto il Comune sta perdendo parecchi soldi, anche in mancati oneri di urbanizzazione. Torniamo a parlare di quartieri, perché c'è una novità della quale, novità poi ci darei da quanto una novità, la possibilità di realizzare delle piccole iniziative che hanno degli scopi di tipo culturale sul territorio, negli spazi pubblici. Di cosa si tratta? Sì, noi abbiamo sempre, a proposito, ritornando a fare un link col tema della sicurezza, noi abbiamo sempre pensato che una Milano felice è una Milano in cui c'è aggregazione, c'è una frequentazione positiva, qui è una frequentazione fatta di famiglie, di persone giovani, di bambini e questa parte la fanno e la svolgono molto spesso e molto bene le associazioni, quelle piccole, le associazioni locali che organizzano delle iniziative. Molto spesso queste associazioni si trovano in difficoltà di fronte ai percorsi della burocrazia. Questo anche perché noi, in una prima istanza, proprio per cercare di semplificare, abbiamo creato una procedura unica. Solo che questa procedura unica finiva per chiedere lo stesso livello di burocrazia ai grandi eventi come ai piccoli. Quindi molto spesso poi l'associazione si trovava un po' costretta a fare delle rinunce e a pensare di non farla più. Quindi invece ci siamo messi al tavolo con tanti assessorati, quello al commercio, alla polizia locale, all'ambiente al verde e abbiamo fatto una delibera di giunta in cui abbiamo detto che tutte le iniziative fatte con uno scopo socioculturale da associazioni a realtà no profit che non occupino più di 60 metri quadri di spazio pubblico sia nelle aree pedonali che nelle aree verdi e che in qualche modo non comportino la partecipazione in contemporanea di più di 100 persone, debbano avere una procedura più semplificata. E quindi c'è una procedura oggi online, basta andare su GeoEventi, che è la piattaforma del Comune di Milano, in cui con solo due settimane di anticipo e una descrizione guidata e accompagnata di che cosa si vuole fare e dove, il municipio in cui quell'iniziativa verrà realizzata può dare l'autorizzazione a che quell'iniziativa si svolga. È uno strumento che sta dando tanta soddisfazione alle persone. Ieri ero in Commissione Municipio 4 a raccontarlo e una signora di un'associazione ha detto questa è una promessa elettorale mantenuta perché avevate detto che avreste semplificato la vita di noi associazioni e con questo strumento lo avete fatto. Quindi è bello quando poi lo sforzo viene riconosciuto. Va bene, allora siamo contenti di averlo raccontato anche, o ricordato, ai mozza ascoltatori fatevi avanti. E adesso noi siamo pronti invece con le notizie regionali aggiornate. Guardo il direttore Luca Levalli per capire se è tutto ok. Insieme all'assessore ai servizi civici e molto altro, Gaia Romani, diamo subito un appuntamento prima che sia troppo tardi, nel senso che la trasmissione è un termine. dal 3 al 6 ottobre il forum della partecipazione. Sì, è un appuntamento, sarà la seconda edizione, lo abbiamo lanciato la prima volta l'anno scorso. È un appuntamento in cui vorremmo far incontrare le persone, quest'anno attorno probabilmente al tema degli SDGs, che è un tema rispetto al quale si può cercare di far incontrare le imprese e le associazioni. Quindi c'è un tema a Milano in cui sicuramente il pubblico e il privato è una B2E, diciamo, è una qualcosa che noi siamo molto abituati a fare, è un qualcosa che fa parte del tessuto milanese, però si può sempre migliorare rispetto a come noi facciamo incontrare le realtà. E sempre più aziende e realtà oggi sono molto sensibili al tema della CSR, però molto spesso fanno fatica ad intercettare i soggetti con cui dialogare. Allo stesso tempo le piccole associazioni, i cittadini attivi che magari hanno un'idea da realizzare ma non hanno gli strumenti per farlo non sempre sanno a quale realtà imprenditoriale che invece magari vuole dargli una mano e un contributo sanno a chi rivolgersi. Quindi noi abbiamo sempre svolto questa funzione di facilitatori, provare a farlo in un appuntamento che sarà quello del forum della partecipazione in cui poi ovviamente accadrà anche tanto altro è un esperimento che vorremmo provare a fare anche noi perché poi siamo in tanti ovviamente che ci proviamo e è bello perché nascono sempre dialoghi, confronto, rete, quindi vorremmo provare a mettere insieme questa grande comunità della cittadinanza attiva e della partecipazione perché ultimamente Milano sentiamo che è molto come dire oggetto anche di una messa in discussione e viene raccontata come una città molto escludente, no? Io ho la fortuna dal mio punto di vista È raccontata così o lo è anche? Allora diciamo che dipende da che punto di vista noi la vediamo io non penso che le persone il tessuto sociale milanese sia un tessuto sociale che esclude gli altri io penso che ci siano dei problemi che siamo chiamati a risolvere che rischiano di escludere alcune persone dalla possibilità o di rimanere a Milano o di venire a Milano che sono innanzitutto il costo della casa e il costo della vita ma il fatto che ci siano questi due problemi che tantissime metropoli oggi si trovano ad affrontare nasce dal fatto che le persone a Milano vogliono venire perché Milano è anche una città che è riuscita a disegnarsi ma non soltanto come la città del lavoro del design della moda dell'innovazione che è importantissima e che ha un valore ma anche della solidarietà della socialità dell'aggregazione degli eventi serali culturali e quindi di opportunità proprio anche di socialità questa parte qui è molto viva e continua a resistere e anzi a implementarsi io lo vedo perché per mia fortuna giro i quartieri di Milano di lavoro tendenzialmente mi occupo di questa città e quindi ho il grandissimo privilegio di vedere tutto questo di vedere quanto lavoro meraviglioso viene fatto dalle insegnanti nelle scuole di quante piazze iniziative vengono ridisegnate anche grazie al supporto delle persone iniziative di solidarietà piccole e grandi che siano la nostra città è costellata da tutto questo però in qualche modo forse dobbiamo cercare di metterlo insieme affinché si faccia quella massa positiva perché le piccole cose non riusciranno mai da sole a come dire superare le critiche perché la critica soprattutto quando poi diventa mainstream andrà sempre più veloce dei progetti reali e concreti positivi che le persone fanno per contribuire quindi il forum della partecipazione ha un po' questo obiettivo cioè quello di andare ad identificare una comunità di persone che stanno facendo delle cose che stanno facendo delle cose attorno i valori dell'educazione dell'attenzione alla riduzione delle disuguaglianze della sostenibilità sociale ed ambientale della cittadinanza attiva il senso delle istituzioni il senso di essere una società democratica e che lo stanno facendo in tantissimi modi diversi con strumenti diversi invitando anche i miei colleghi a ragionare su come lo sport per esempio il lavoro come tutti questi possono essere assi di partecipazione e di inclusione e in qualche modo far nascere nuove alleanze attorno appunto a quello che vuole essere un po' un contenitore perché tutto questo c'è ma dobbiamo trovare dei modi per metterlo insieme e in qualche modo creare uno spazio di protagonismo al di là dei singoli episodi e delle singole iniziative che magari sono continuative l'impegno è importante e è duraturo però io questa missione un po' me la sono data perché non credo che sia ingiusto tanto nei confronti dell'amministrazione quando si parla male di Milano ma credo che sia ingiusto innanzitutto per chi cerca di attivarsi in maniera diversa tutti i giorni e poi anche per chi sta peggio a me la cosa che dà più fastidio del dibattito mainstream di quanto Milano sia escludente e di quanto all'amministrazione questa cosa non importi è che le persone che sono più fragili che sono da sole che si sentono sole continueranno a non fare altro che convincersi di essere sempre più abbandonate e quindi non si muoveranno nella direzione di chiedere aiuto e invece Milano è una città in cui se chiedi aiuto lo ricevi non invieranno una segnalazione su un problema perché daranno per scontato che non ci sia nessuno dall'altra parte a prenderlo in carico e invece a Milano ci sono 4.000 persone che tutti i giorni sono sui territori a raccogliere e fare segnalazioni che siano dell'amsa che siano del nuir che siano di tutte le realtà che ogni giorno sono al lavoro per la nostra città e quindi credo che davvero lavorare su questo tema di in qualche modo far sì che anche la parte bella emerga sia in qualche modo una questione di giustizia sociale perché oggi restituire fiducia a chi a Milano fa fatica è fondamentale per loro non perché così il sindaco o la giunta sono più ben voluti o come dire abbiano stiano più o meno simpatici ma è proprio una questione di fiducia nell'amministrazione e di dire guarda che alle istituzioni importa e importa di te e questo è fondamentale e per me è anche molto frustrante perché ovviamente H24 siamo al lavoro per migliorare le cose e quindi non mi va che passi il messaggio per cui Milano sia una città che escluda e ci sia qualcuno a cui questo non importa non è assolutamente così Milano è una città che si è data degli obiettivi in grandissima parte li ha raggiunti il raggiungimento di questi obiettivi ha comportato dei problemi che in parte non erano prevedibili e che in parte ancora stanno ricercando delle soluzioni ma questa cosa qui è anche molto interessante e quindi può essere anche vissuta come un'opportunità per cui io credo che dovremmo recuperare tutti un po' più di orgoglio intanto della nostra città e di voglia di contribuire a riuscire ad ottenere dei risultati dei cambiamenti dei miglioramenti allora ha toccato un tema importante nel senso che noi non vogliamo far perdere la fiducia nelle persone e le cittadine anzi invitiamo gli ascoltatori che davvero sentono di aver bisogno di lanciare una richiesta fatelo perché qualcuno la raccoglierà e continueremo del resto anche a rilevare noi i bisogni che ci sono sul territorio mi pare di capire che sia una sfida più che altro comunicativa legata all'immaginario non solo mediatico ma collettivo visto che c'è la sostanza assolutamente quando si parla di partecipazione la prima cosa è l'informazione cioè perché ci sia il diritto alla partecipazione io devo essere anche informato quindi più che comunicazione è anche che può sembrare un'operazione più diciamo volta al consenso io intendo proprio informazione da cui può nascere anche il conflitto però è una questione sicuramente anche di trasparenza noi in questo momento stiamo comunicando tante delle cose che facciamo però quello che ci torna indietro è che in qualche modo serve una probabilmente cambiare la prospettiva e tornare a una prospettiva che sia più quella del cittadino e del suo quartiere quindi la sfida che io vorrei darmi anche con il piano quartieri è proprio quella di cambiare il rapporto con i cittadini e non fare questi grandi momenti di partecipazione in cui vado nei quartieri ci sto per qualche mese e poi non ci vediamo più ma in qualche modo trovare un metodo da industrializzare in cui io vado in un quartiere e poi continuo a girare tutti i quartieri 40 quartieri continuamente con chi nel frattempo aggiorna quello che si fa io vengo da te raccontiamo quello che stiamo facendo la visione che abbiamo calata nel tuo quartiere tu in quel caso hai modo di informarti di comprenderla e di farmi poi anche tutti gli appunti e le critiche che vuoi fare in una relazione che però in qualche modo non si interrompe mai quindi è una sfida soprattutto può sembrare banale ma non basta prendere e andare perché poi tanto è anche qualità cioè quindi come coltivare poi la relazione assolutamente grazie per questa lunga intervista e buon lavoro assessora Gaia Romani grazie mille a voi per l'invito e un saluto a tutti gli ascoltatori alla prossima torniamo tra poco grazie mille a voi grazie mille a voi